Purtroppo non è così, perché non è così. Noi abbiamo fatto proprio questa riunione oggi per raccogliere tutti i rilievi dei dirigenti sanitari rispetto al provvedimento di scura. Abbiamo deciso di definire un quadro di proposte sulle quali costruire la soluzione, una decisione che sia rispondente agli interessi del territorio. L'obiettivo nostro è quello di riqualificare il sistema sanitario, di lavorare per uscire dal commissariamento che tanti danni ha prodotto in questi sei anni alla nostra regione. Quindi benvenga il sostegno di 5 Stelle su questa linea. Noi siamo aperti quando il sostegno viene anche da forze diverse che però si attestano su una linea positiva e propositiva. Se questo è l'intento di 5 Stelle benvenga questo sostegno.